Partirò col correggere la senatrice su un punto che io sono tutto forché una vittima, nel senso che anzi io in qualche modo mi fa piacere a questo punto di essere in mezzo a questa ridicola e grottesca faccenda perché questo significa che il sistema è molto più debole forse di quanto noi immaginiamo perché doversi accanire in questo modo contro un singolo e mettere in campo tutte queste strutture milionarie per demolire me e qualche altra persona significa che basta un sassolino per inceppare un ingranaggio che a quanto vale noi pensavamo molto più potente e più pericoloso di quanto in realtà fosse. Perché è chiaro, sì, a me creano un po' di problemi perché adesso nel palazzo mi guardano tutti con aria un po' circospetta, quando accompagno mio figlio all'asilo c'è qualcuno che cammina raso alla parete, no voi ridete ma è così, no? Cioè nel quartiere sono amato, temuto, cioè sembra quasi un boss mafioso, no? Si apre il mare, no? Sembra un mosee quando attraversa le acque del Mar Rosso, no? E questa cosa in qualche modo mi inorgogliosisce anche, no? Perché voglio dire, se è bastato uno per mettere in crisi il governo Draghi, il governo dei migliori, no? Io vi do anche una notizia, il ministro Di Maio mi ha denunciato per diffamazione, io vengo adesso... Sì, sì, no, voi ci ridete. No, ma perché io gli ho dato dell'imbecille perché ho detto che al ministero lui al massimo dovrebbe passare lo straccio. Ora io approfitto di questa occasione pubblica per scusarmi con coloro che passano lo straccio al ministero perché io penso che quelli che passano lo straccio al ministero mi dovrebbero denunciare per diffamazione per averli accomunati al ministro degli esteri. Perché loro una qualche utilità pubblica ce l'hanno, lui fa solo danni, fa solo danni, grossi, grossi. Perché ecco, io penso, penso, ministro, penso che lei agisca per conto di potenze straniere assieme al suo sodale ministro e presidente del consiglio. Quindi, e quando anche un ministro, capito, arriva a denunciare una persona perché gli dà dell'imbecille, perché dice che dovrebbe passare lo straccio al ministero, ci rendiamo conto che questi sono veramente alla canna del gas e che se un poco poco in questo paese ci fosse un po' più di organizzazione dell'opposizione, noi li potremmo spazzare via veramente muovendo le mani perché questi si tengono insieme, vorrei dire con lo sputo, diciamo, non lo dirò, diciamo che si tengono insieme un po' per miracolo. A Roma si dice con lo sputo, è una cosa che si capisce, arriva subito dritto al cervello. Per quanto riguarda il resto, sì, diciamo che questa faccenda è ridicola e grottesca. Laura Ruggeri, io penso che fino all'altro ieri nessuno sapesse chi fosse, Maglio Dinucci è un ultra ottoagenario, immagino quanto pericoloso possa essere, sono anni che scrive sul manifesto, adesso si sono accorti che è una spia del Cremlino, per anni non se ne è mai filato nessuno, adesso è diventato importantissimo. Uno è un dentista, qualcun altro l'ho dovuto cercare su Google, Laura Ruggeri tra l'altro scrive in inglese, io voglio capire chi è fino all'altro ieri che leggeva gli articoli di Laura Ruggeri, adesso l'hanno resa celebre e famosa. Faccio presente che il Corriere della Sera, tolti i resi, praticamente vende tante copie quante sono le persone che mi seguono a me sul mio canale Telegram, quindi praticamente noi ce la giochiamo alla pari in quanto a seguito. E questo chiaramente a loro fa paura e quando io ho avuto la discussione con la vice direttrice Fiorenza Sarzanini, persona che io sinceramente stimavo prima della pandemia, è che a loro, a quello che fa paura, non è che quello che diciamo noi sia vero o falso, perché questo loro è del tutto secondario, come del tutto è secondario quello che pubblicano loro, che sia vero o che sia falso, a loro non interessa che sia vero o sia falso. Quello che loro temono dal nostro punto di vista è la superdiffusione, perché la superdiffusione è un qualcosa che spetta soltanto a loro. A loro quello che fa paura è che quello che io dico e che scrivo venga seguito da centinaia di migliaia di persone che a loro volta lo rimandano e che quindi arriva a milioni di persone. Siccome i social sono una struttura militare, e se avessimo tempo io vi spiegherei in che modo e per quale motivo sono una struttura militare, cioè ideata, concepita in ambienti militari, perché questa oggi è la vera arma di distruzione di massa, sono i social network che lavorano in combinazione con i media mainstream, perché i media mainstream che non legge nessuno, sono però un qualcosa che certifica la narrazione dominante. Questa narrazione dominante viene immessa nei circuiti dei social network dagli influencer loro che a loro volta la superdiffondono. Quindi se qualcun altro gli ritorce come un judoka il giochino contro, a loro questa cosa non va bene e quindi stanno cercando in tutti i modi di limitare la superdiffusione. Ed è per questo motivo che il sottoscritto in epoca di pandemia è stato bloccato su Facebook dieci mesi, di cui cinque mesi in maniera continuativa. Poi nel momento stesso in cui vengo sbloccato il mio account Facebook cresce di 50.000 persone nell'arco di due mesi e chiaramente questo loro non se lo possono permettere. Ma perché accade questo? Sarò molto veloce per non sottrarre tempo agli altri allenatori. Noi lo vediamo in Ucraina, è molto chiaro. Quello che succede in Ucraina è molto evidente. Quando un paese è governato da una minoranza che agisce per conto terzi, nel momento stesso in cui fa scelte e suicide, l'unico modo che ha per portare a compimento è silenziare completamente l'opposizione che di fatto è stata messa fuori legge. I giornalisti sono stati ammazzati. Il Corriere della Sera ha corretto il buon fazzolo dicendo... Il Corriere ha detto che erano 80, il Corriere ha detto che sono solo 40, quindi è chiaro che se ammazzi 40 giornalisti di opposizione è qualcosa di ammissibile. 80 forse sono un po' troppi, però 40 si può fare. E quindi è chiaro che un paese quando viene silenziata completamente l'opposizione, quando i giornalisti vengono ammazzati e intimiditi, a quel punto tu puoi far passare qualsiasi cosa, perché a quel punto l'opinione pubblica non ha l'esatta percezione di quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo in Ucraina verrà capito forse fra uno o due anni, fra qualche mese. Io in realtà non lo so di preciso. Quando continueranno a arrivare i soldati dentro i sacchi neri e le famiglie cominceranno a rendersi conto di quello che sta succedendo, di che cosa ha costata questa guerra in termini di istruzione, di massacri, perché poi i soldati noi pensiamo che debbano morire, ma lì stanno morendo migliaia e migliaia di soldati. Si parla di 100 al giorno, io credo che siano molti di più. E stanno morendo assolutamente per nulla, perché come dicevamo noi in trasmissione nei mesi scorsi, diciamo che questa era una guerra a senso unico. Quando ci dicevano che Zelensky era già sul carro armato pronto per attraversare la Piazza Rossa, noi dicevamo che scusate signori, guardate che le cose non stanno esattamente così. Questa non è una guerra a lampo. A Putin la guerra va benissimo che duri, perché più dura e più aumenteranno le frizioni interne, più tempo andrà avanti e più la gente si renderà conto che il governo l'ha spedito il paese in una scelta suicida. Ed è stato possibile semplicemente perché le opposizioni sono state silenziate. Ed è la stessa cosa che sta succedendo in Italia. Il paese è governato da dei pazzi, da dei criminali, da gente che sta andando contro l'interesse nazionale, perché come dice il Corriere della Sera, io qual è stato il mio reato? Dire che le scelte del governo sono suicide. E questa cosa non è che la dico da quando lo dice l'ambasciatore russo. Io sono stato bloccato a settembre da Facebook per aver fatto un post dal titolo del lanciafiamme delle mutande e parlavo del caro Bollette. Imputavo una delle cause del caro Bollette, era la politica suicida nei confronti della Russia, al voler uscire dai contratti a lungo termine e andare nel mercato spot. Ci voleva uno scienziato per capirlo. Poi la gente si ritrova a pagare 1000 euro l'anno in più di energia elettrica. La benzina è arrivata a oltre 2 euro al litro. Che altro dobbiamo fare? In assenza di opposizione queste scelte possono passare. Può passare il fatto che le industrie debbano chiudere, che gli italiani debbano pagare più soldi, mandare le armi in maniera incostituzionale a un paese. Ok, questo succede perché è silenziata l'opposizione. Noi stiamo andando verso il nazismo, stiamo andando verso il totalitarismo. Il totalitarismo in Ucraina è la purezza del pensiero, non è la purezza della razza. Oggi noi andiamo verso la purezza del pensiero. Il pensiero, se impuro, non è ammesso. Esistono i pensieri conformi e i pensieri difformi. I pensieri difformi devono essere silenziati e non devono avere diffusione. E questo è un pericolo gigantesco, signori miei e signore mie. È un pericolo gigantesco. E questo non se ne sta rendendo conto nessuno. Giri per strada, ancora c'è gente che gira con le FFP2, con 40 gradi, che manda i figli a scuola con le FFP2. Ma stiamo scherzando. E anche lì, durante la pandemia, è stato suppresso il dibattito pubblico. E in questo caso siamo fatte scelte suicide. Scelte suicide perché i nostri figli li pagheranno per decenni in questi condizionamenti psicologici. Perché noi oggi non ce ne rendiamo conto. Ce ne rendiamo conto fra 3, 4, 5, 10 anni del danno che stiamo facendo. E quindi o vi poniamo un freno ora, o andremo a sbattere allo stesso modo in cui sta andando a sbattere l'Ucraina, che finirà fatta a pezzi. Fra qualche anno il battaglione Azov combatterà contro il governo centrale, perché poi l'ultimo pezzo se lo mangerà la Polonia, l'ultimo pezzo del paese. E questo è stato dovuto a scelte suicide, è stato dovuto alla soppressione del dibattito pubblico. E quando noi andremo a sbattere contro il muro di cemento armato, noi Italia, noi italiani, quando ci domanderemo che cosa è successo, dovremo ritornare indietro alle liste di proscrizione, dovremo tornare indietro a un Parlamento completamente appiattito sulle posizioni del governo, perché ci dicono che in Russia c'è la dittatura. Ma in Russia uno o due partiti da chiudere ci stanno, qui in Italia non c'è un partito da chiudere, non c'è, perché sono tutti schierati, tutti appiattiti, non c'è un giornale da chiudere in Italia, non c'è un intellettuale da arrestare, perché gli intellettuali sono tutti appiattiti. E poi alle persone, tu non è che tu per silenziare una persona gli devi mettere il bavaio, basta che tu induci le persone a tapparsi le orecchie, quando parlerà Giorgio Bianchi domani le persone si attapperanno le orecchie, perché diranno che quello è un putiniano, perché quello è un cialtrone. Quando il signor Parenzo si permette di darmi dello stronzo e del coglione in diretta è perché oramai il dibattito pubblico è ridotto a questo, alla rissa da barra, al discorso tra ubriachi, ma a me non mi tirerete mai dentro questa volgarità, perché io posso essere sarcastico, posso essere ironico, ma non sarò mai volgare, non lo sarò mai, non lo dirò mai perché io non li odio, a me fanno pena, a me fanno tristezza, io ho disgusto nei loro confronti, ma non li odio, come non odio le persone che vanno in giro con le FFP2 e le persone che mi critica, perché loro, non io, sono le vittime, perché io combatto e ho la forza e il coraggio di combattere, chi non ha la forza e il coraggio di combattere è lui la vittima, non io. Grazie. Grazie.